... ... ... ... ... ... ... Hai voluto un altro figlio? E allora ho messito i pantaloni intorno a casa a fare il padre. Altrimenti questo lo faccio qua. Se sto letto! No! Spingi forte! Giù al sedere, Franca! Giù! Non sei normale! Non sei normale! Forza! Facciamo al dottore! Ecco qua, finalmente. Sei una femmina. Giovanni! Aspetta Giovanni che ne è un altro! Sei maschio, Giovanni! Sei maschio! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Here we go! 3, 2, 1, via! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ho, ha, ha! Ho, ha, ha! Grazie a tutti